Ciao ragazzi, io sono Red e oggi parleremo di come il vostro garage può evitare di prendere fuoco con un semplice e piccolo accessorio. Sigla! Oggi parliamo di queste, che sono semplicemente delle bustine ignifughe per caricare le vostre lipo della 8Field. Sostanzialmente sono delle buste che voi potete andare ad aprire, ci infilate dentro la vostra batteria lipo connessa al caricatore e l'andate a caricare all'interno di questa busta. Purtroppo, come sappiamo, alcune batterie lipo, soprattutto quelle molto vecchie, sono abbastanza instabili e se non caricate correttamente possono effettivamente prendere fuoco e per quanto questa sia una condizione abbastanza rara può essere abbastanza spiacevole. Quindi se siete stufi di avere il garage in fiamme o se avete già buttato via due case a forza di caricare le lipo con il caricatore sbagliato quando non siete in casa, io vi consiglierei di prendere questo. Non costano niente, sono abbastanza economici e vi basta caricare la lipo al loro interno per evitare qualunque tipo di complicanza a lungo termine. Trovate il link in descrizione, questo pillolo è veramente molto corto anche perché stanno arrivando grossi video in programma. Io vi ringrazio di essere stati qui con noi, in descrizione trovate il link ovviamente di questo prodotto e del nostro Instagram. sia mio che del negozio. Venite a farci un salto, iscrivetevi e mettete like alle mie bellissime foto. Qui da Red è tutto e stay angry!